Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino, in direzione Roma code a tratti tra il Bibio per la 11 e Firenze in prunita. Sulla FIPILI in direzione Firenze per un veicolo in avaria a due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. Per lavori un chilometro di coda tra Empoli Ovest ed Empoli. Per traffico intenso rallentamenti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. In direzione mare per lavori code tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Su raccordo Siena-Firenze ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Monteriggioni e Siena Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.